La mappa insomma niente Però vabbè Meglio che niente Allora cerchiamo questi tizi Il mio istinto mi dice di cominciare da lì No ma questi non lo fanno subito il genere Cominciamo da quell'angolo lì Secondo me stanno lì Eccoli Visto Hanno sabotato un uncino Cosa hanno fatto No Scende giù Ok qui c'è qualcuno Che fai? Non ti disconnettere ti prego Non mi serve l'uncino dai Ho visto qualcuno correre qui? Si esatto Hai visto bene Che Sbagliato Dwight Sbagliato 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 Scusate un attimo ma Mettiamo Abbassiamo un po' la grafia Così la live va meglio forse È un po' tosto Bisogna prenderci un po' la mano Niente nemmeno uno Guarda Presa Cosa? Sbagliato Sbagliato Easy mind game Dodd Qua andata Easy mind game Basement? Of course we have a basement Of course Ok hanno salvato Dwight Ciao Medusa How are you? Oh you're so cute Jogger You're so cute You know what? Take this Cosa? So scemo Non ti disconnettere Questi non mi fanno ammazzare nessuno Guarda come te lo dico Mi rompono le scatole Ma la Claudette è qui? No Non è andata Si sono curati tra l'altro Culo Fammi tornare indietro Questi vanno a fare il save Eccoli Ok Decisive Vediamo Sicuro No Ok Ciao Cosa? È sopra? Oddio Oddio È fuori dal basement Ragazzi è fuori dal basement Incredibile A parte potevo fargli il mori È fuori dal basement Guarda questo bug Qui intanto c'è Dwight Vorrei dire Preso Mamma mia Signori What a game What a game What a game What a game What a easy game Easy game Great piramide Amazing piramide Mamma mia Mamma mia Vedi che bello questo killer Che divertente Quando fa queste cose Tipo una cacciatrice Però può lanciare i colpi Attraverso le pareti Diciamo Però devi andare un po' A occhio Intuito Diciamo Seguiamo Dwight Dai Però se te la cavi Allet Nooo Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla Ok ho fatto la mia missione Non mi interessa degli altri I made my mission for the archives Joker So I have to kill 10 survivors So I don't care about this If Nia takes the hatch I don't care No hatch for you All right They're pretty far away Actually Yep Always far away When I play killer Oh I see the Nia No it's not a Nia It's a It's a Clodette What So lucky Dude So lucky Very very lucky All righty Bye Have a great time Have a great time Sir All right Let's go Okay Let's leave this Clodette Come on Open the exit gate You can go No I love Clodette You can go man Come on go Go Dude I want you to go Where is this Clodette Just lost her I don't know Come on Open the exit gate Man That's too late Man That's too late That's too late For you man Bro You're an idiot I let you go Why you didn't open The fucking exit gate Man Why Why Dude Why Why you are stupid Please You're an idiot You're 비